Musica Buongiorno, è domenica 2 febbraio, primo appuntamento della giornata con l'informazione di Tele Molisi. Apriamo il nostro Tg del mattino parlando ancora dei precari della protezione civile. Il prefetto di Campobasso ha convocato per domani mattina alle 12 un nuovo tavolo istituzionale. Il servizio è di Marcella Tamburello. Da domani l'Agenzia di protezione civile del Molise sarà vuota. I 218 lavoratori che nel 2012 avevano sostenuto un concorso e stipulato un contratto di lavoro della durata di tre anni con l'Agenzia sono stati licenziati per mancanza di fondi. E questo dopo un solo anno di lavoro. I contratti infatti erano partiti a gennaio 2013 e dovevano cessare a fine 2015. I precari non ci stanno e protestano per questa situazione. Il prefetto di Campobasso, Francesco Paolo Di Menna, lo scorso 13 gennaio ha aperto un tavolo istituzionale con la politica e i sindacati per trovare una soluzione. Qualche giorno fa i sindacati sono stati chiamati alla riunione indetta dal servizio lavoro della regione molise con l'assessore Petraroia il quale ha ribadito che degli oltre 10 milioni di euro per la ricostruzione ne sono rimasti solo 5 che devono essere usati fino al 2018. Questo significa che dei 218 precari solo una quarantina di loro potrà tornare al lavoro. Ma come ha ribadito anche Giuseppe Colucci, presidente del Comitato Precari della Protezione Civile, se entro il 30 giugno 2014 non consegniamo una parte importante dei lavori della ricostruzione, tra cui monitoraggio e rendicontazione, il Molise perderà i fondi della delibera Cipe 2011. 346 milioni, parte dei quali sono già stati impegnati, ha ricordato il presidente Colucci. I 5 milioni e 100 mila euro ancora a disposizione potrebbero consentire a tutti i 218 precari di lavorare per un altro anno e mezzo, ha sottolineato Giuseppe Colucci, così da poter terminare anche lavori che devono essere consegnati entro giugno per rispettare le linee della delibera della Cipe. Ed è proprio questa la proposta univoca dei sindacati, e cioè far rientrare subito al lavoro i 218 precari, sfruttando i 5 milioni di euro ancora a disposizione per la ricostruzione e nel frattempo cercare altri fondi per andare avanti fino alla fine dei contratti e ovviamente di tutta la ricostruzione. Intanto, per domani mattina è stato convocato dal prefetto di Campobasso un nuovo tavolo istituzionale, con la politica regionale, la delegazione parlamentare, i sindacati e ovviamente i rappresentanti del comitato precari della protezione civile. E' sempre in merito, il senatore Ulisse Di Giacomo ha inviato una nota per comunicare che domani mattina non parteciperà alla riunione in prefettura. Ho già espresso la mia posizione nel precedente incontro, ha detto il senatore Di Giacomo. Frattura e Ciocca sono responsabili del dramma dei 218 lavoratori che, nonostante una selezione vinta, sono stati mandati a casa prima della scadenza del contratto. Nella legge istitutiva dell'Agenzia di protezione civile, ha ricordato il senatore Di Giacomo, erano accantonati fondi per i loro compensi. Io sono al fianco dei lavoratori, disponibile per qualsiasi iniziativa, ma non ho nessuna intenzione di farmi coinvolgere da Frattura e Ciocca per responsabilità che sono soltanto loro. Per questo, ha concluso il senatore, mi scuso con il prefetto per la lodevole iniziativa che ha intrapreso, ma non parteciperò a nessuna riunione finché non sarà ripristinato lo stato di diritto di questa vicenda. Cambiamo argomento, nuove possibilità di lavoro per i ragazzi disabili della cooperativa Lai Lavoro Anch'io di Sernia. Grazie ad una intesa con le ACLI sarà attivato un progetto sperimentale per la lavorazione e commercializzazione del miele e della cera. Sergio Di Vincenzo. Ancora un passo in avanti verso l'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro. Grazie ad un'intesa con le ACLI, i ragazzi della cooperativa Lai Lavoro Anch'io di Sernia si incamminano lungo il percorso dei Sensi, un progetto sperimentale destinato a coinvolgere 20 persone. In particolare si punterà la produzione e la lavorazione del miele e dei suoi derivati. La collaborazione con l'associazione prevede inoltre la valorizzazione delle risorse forestali e la tutela ambientale. Per la firma del protocollo di intesa nella sede della cooperativa è arrivato il presidente nazionale delle ACLI Gianni Bottalico. La sfida è un po' questa, quella di valorizzare queste esperienze. Qui ci sono esperienze dei genitori che si sono messi insieme, che hanno dato la vita a questa cooperativa e stanno facendo delle cose splendide, si stanno confrontando con l'esperienza societaria, si stanno confrontando anche con l'esperienza dura del mercato. Quindi riuscire oggi a essere qui vuol dire testimoniare questa vicinanza e anche offrire per quello che possiamo e sappiamo fare un'opportunità, una collaborazione loro perché questo loro lavoro possa essere valorizzato anche fuori dal territorio del Molise. Un accordo in perfetta sintonia con gli obiettivi della cooperativa LAI, ha spiegato il vicepresidente Nino Santoro. Ci consente di immaginare un percorso all'interno dei territori, dei nostri territori della nostra provincia e soprattutto sul terreno che abbiamo a disposizione, di poter concretizzare questo veramente impegno sul mondo dell'apicultura, della cera, della produzione di candele, insomma tutta una serie di iniziative che servono per mantenere l'impegno dei nostri ragazzi in un settore diverso anziché in un laboratorio su un terreno organizzato, con percorsi organizzati e facendo sì che abbiano anche un riscontro del lavoro che fanno. La produzione della candela è stata entusiasmante per loro perché hanno visto la loro creazione immediata. Quindi voglio dire, è un altro punto, un altro tassello che la cooperativa LAI cerca di mettere sul proprio cammino per migliorare, per incrementare, per integrare sempre di più queste persone nel mondo del lavoro e soprattutto nel mondo della loro vita quotidiana. E adesso la nostra rassegna stampa. Che iniziamo andando a vedere l'home page del giornale del Molise.it, l'apertura è sulla visita in Molise del ministro per l'integrazione Cecil Chiang, il ministro per l'integrazione promuove il villaggio di San Giuliano di Puglia e l'articolo di apertura sul giornale del Molise.it a firma di Fabrizio Occhionero. Poi la notizia di cui abbiamo già parlato, tavolo in prefettura sulla protezione civile di Giacomo, non ci sarò, colpa di frattura e ciocca. Al centro vediamo Palazzo Vitale, le istituzioni molisane accolgono il ministro Chiang, che rifugiati, la provincia approva il progetto SPAR a disposizione oltre un milione di euro. SOS, la protezione incivile del Molise è morta. È il titolo che si riferisce alla lettera di un gruppo di lavoratori della protezione civile. Si tratta di alcuni dei 218 precari. E poi vedete al centro regione, Consiglio regionale, in aula la vicenda Grammanze, approvate due mozioni unificate. Ieri la riunione prevista obbligatoriamente dallo Statuto del Consiglio regionale. Prefettura, poi Campobasso, nuova piattaforma telematica per semplificare procedimenti amministrativi. La cronaca ritrovato in buone condizioni di salute, l'uomo scomparso ad Isernia. Veniamo ai giornali regionali in PDF. Allora partiamo da primo piano Molise. Ci sono queste notizie sulla prima di oggi. Muore dopo 14 giorni di agonia. Commozione a Boiano dove la donna era volontaria della Croce Rossa. Maddalena Perrella aveva 51 anni. Era rimasta ferita, ricorderete, in un incidente lungo la Statale 17. I familiari hanno deciso di donare gli organi. Poi la visita istituzionale del ministro Chiang. Il Molise ha dimostrato come si fa accoglienza. Ha detto ieri mattina l'omaggio agli angeli di San Giuliano, paese simbolo del sisma che presto ospiterà gli immigrati. La politica Campobasso Forza Italia 2.0. Rotondi affiancato da un comitato. Iorio contro il commissariamento. Si parte con il piede sbagliato. Da sconcerto poi a Campobasso per la morte di un agente disposta all'autopsia. Chiarirà le cause del decesso di un agente. Giuseppe Manzo, 36 anni, si era sposato la scorsa estate. Da Boiano scomparso un anno fa. Parlano i figli dell'operaia della Solagri. Talcara mamma, cercheremo la verità fino in fondo. Da Campobasso ancora sfonda la porta di casa dell'amica. Arrestata l'episodio di notte nella zona di via Montegrappa. Campomarino, banda del buco, svaliggia una tabaccheria. Colpo da 20.000 euro. Ne abbiamo parlato anche nei nostri TG come delle altre notizie. Coppa Italia regionale. Qui siamo allo sport. Campobasso e Fornelli si contendono il trofeo. A Trivento l'atto finale della Kermess Tricolore. Previsto il pubblico delle grandi occasioni. Sereddio l'impiagnone seconda chance con la Mternina. Match di recupero per il team Granata. Calcio a 5. La Isernia e il Venafro C5 rimediano solo goleate dall'Abruzzo. per Lavastese e San Salvo. L'obiettivo è ripartire. Questo era primo piano Molise. Vediamo anche il quotidiano del Molise. Migranti. Chiang benedice San Giuliano. Il ministro dice il villaggio provvisorio potrà ospitare i profughi in arrivo. La solidarietà restituita con l'accoglienza. Nella visita ha annunciato un piano strategico per l'integrazione. Frontale sulla statale 17 di circa 15 giorni fa. Maddalena muore dopo due settimane di coma. Il cuore della 53enne di San Polo ha smesso di battere. Da Campobasso ancora sfonda la porta di casa e minaccia l'amica arrestata. La banda del buco colpisce ancora furto da 15 mila euro. E qui siamo alla notizia da Campomarino. Protezione civile precari fondi post sisma usati per il post alluvione. E poi la politica forza Italia e tradimenti. Il debutto di Rotondi segnato dal caso Patriciello. Il commissario dice più giovani nel nuovo gruppo dirigente. Da Isernia area stazione il comune ha deciso pronti 1,7 milioni per l'acquisto. E poi abbiamo lo sport. Serie D l'Agnone riceve la miternina dopo l'invio per neve. Coppa Italia e i lupi vogliono mettere le mani sul trofeo. Fornelli ha guerrito e a caccia dell'impresa a Trivento. Qui siamo alle anticipazioni sulla finale di Coppa Italia di oggi. che ricordiamo sarà trasmessa in diretta da Telemolise a partire dalle 14.30 sul canale 112. E poi eccellenza l'ife pari al novantesimo nel recupero contro la Santeliana. Vediamo anche il sannio quotidiano nella prima pagina dedicata al Molise. Il ministro Chiang in regione, al centro della visita istituzionale dell'esponente del governo guidato da Lette ai temi dell'accoglienza e dell'integrazione. Il governatore Paolo Di Laura Frattura pronti a dimostrare che tutti i molisani e stranieri possono farcela. Vedete da Isernia, Isernia pronta a cambiare volto grazie al progetto del PISU. Un ponte unirà due zone attualmente separate dai binari ferroviari. Questo era dunque il sannio quotidiano. Vediamo adesso la Gazzetta del Molise. C'è questa notizia in evidenza sulla prima. Divieto non candidate Patriciello alle regionali arremato contro il centrodestra. Ora vorrebbe i voti della coalizione e il titolo interrogativo della Gazzetta. L'Oscar del giorno oggi viene assegnato ai Cassa Integrati, il cui numero è purtroppo in continua crescita in Molise. il tapiro del giorno a Michaela Fanelli. C'è poi a fondo pagina un articolo a firma di Emilio Itzo. Prove di insabbiamento 2, nevrosi da magistrato. Ma il sostituto Papa è buono o non è buono? La riflessione di Itzo e la domanda nasce da queste considerazioni. È stata portata a termine l'indagine del sostituto Papa sull'ex presidente del Consiglio regionale Michele Picciano. Quindi gli avrebbe inviato un avviso di garanzia per peculato ed abuso d'ufficio. Cioè nessuno in questo lasso di tempo, tantomeno il procuratore Daltero, si è sognato di affancarli un altro magistrato per le delicate indagini del caso e l'interrogativo di Itzo. E allora, se questo è vero, ma questo sostituto, leggiamo ancora, è buono per Picciano ma non per Pozzo, qui riferimento è all'indagine sul questore di Campobasso. Questi sarebbero misteri giudiziari o certezze per dubbi inquietanti. Quindi questo è l'interrogativo di Emilio Itzo nell'articolo con riferimento a quanto sta avvenendo a Palazzo di Giustizia. In cartaccio vediamo la pagina dedicata al Monise del quotidiano Il Tempo. In evidenza ancora la visita del ministro Chienghe a San Giuliano. Cecil Chienghe visita il villaggio temporaneo che spitterà 400 migranti. Il ministro benedice le casette e la commozione davanti alle tombe delle vittime del crollo della Iovine. È il titolo dell'articolo a firma di Deborah Di Vincenzo ed Antonella Salvatore. Campobasso Berlusconi invia Rotondi a ricompattare Forza Italia. Ne abbiamo parlato nei nostri Tg. E poi da Boiano Gamma pagati gli stipendi ma l'attenzione resta alta. Iserno è un parco urbano nell'area della stazione. Da Campobasso avvertenza esattorie. Rientra la protesta. Quindi questi i quotidiani regionali. Andiamo a passare in rassegna velocemente quelli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Vediamo quali sono le notizie sulla prima. C'è il caso Mastra Pasqua in evidenza. Inps Mastra Pasqua si arrende. Le indagini e la laurea falsa lascia il Presidente eletta scelta saggia verso il commissariamento dopo la svolta del Governo sul conflitto di interessi. L'ipotesi treu. E c'è poi il maltempo. Neve e nubi fragili. Mobilitato l'esercito. Soldati per liberare le strade al nord. Bloccati i treni verso l'Austria. Esonda. Il Tevere. Allerta fino a martedì. Queste alcune delle notizie che troviamo sulla prima del Corriere della Sera. Vediamo anche il quotidiano economico il Sole 24 Ore. Anche qui Mastra Pasqua si dimette dalla presidenza dell'Inps. Dopo le pressioni per l'accumulo di cariche e la scelta del Governo di un disegno di legge sul conflitto di interessi. Il Premier dice scelta saggia. In Pol Tiziano Treu, l'ex Ministro. Letta ad Abu Dhabi. Missione all'Italia. E' tra i tremi privilegiati nella visita agli Emirati Arabi. Stabilità per cogliere gli investimenti. Con il Premier le principali imprese dell'azienda Italia. Vediamo adesso i quotidiani più regionali. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Il CAB torna e punge il colle. Qui il titolo è comunque dedicato alla politica nazionale. Napolitano. Oggi non rivoterei. Grillo scatena l'offensiva anti-Boldrini. Inps. Mastra Pasqua. Lascia letta scelta saggia. Stop al cumulo di incarichi. E' il catenaccio che racchiude un po' le notizie del giorno. Si parla anche di sollecito che è Origini Pugliesi. Intervista sul processo Meredith. Sollecito non si è fatto interrogare. Bufera sul giudice. Interviene l'Associazione Nazionale Magistrati. Anche una polemica dopo la sentenza. Il mattino di Napoli apre così tariffe RC Auto fronte anti-sud. In Parlamento alleanza bipartisan contro scontri. Tariffa unica nazionale. Battaglia di emendamenti in commissione. Decreto a rischio FOP. La rivolta dei deputati campani. Intanto letta contro Grillo. Blocca la democrazia. Insulti sessisti alla Boldrini sul web. Anche questa presa di posizione sta facendo molto discutere. Berlusconi ora non rieleggerei Napolitano. Il mattino di Napoli. Allora il tempo di Roma. Ovviamente l'attenzione è puntata sul maltempo. Sulle forti piogge sulla capitale. Marino la classe non è acqua. Colpa di chi c'era prima di me. Ha detto l'attuale sindaco di Roma. I romani battono cassa per i danni. Ma il sindaco scarica su Alemanno. Intanto per il caso Grillo. Pronte le punizioni. I grillini espulsi 15 giorni. In arrivo le sanzioni dopo l'occupazione della Camera. Ovviamente riferimento a quanto è avvenuto in settimana alla Camera dei Deputati. Salvo il questore D'Ambroso. Il tempo di Roma. Poi andiamo a vedere anche il quotidiano dei Vescovi. Avvenire più vita in futuro è il titolo di apertura. Oggi la giornata promossa dalla Chiesa italiana. Centinaia di iniziative organizzate dalle diocesi e d'associazione e movimenti. Storie di accoglienza e di solidarietà diffusa. I Vescovi dicono rigenerare il bene. Nuovo patto fra le generazioni. Mastra Pasqua lascia. Qui siamo al caso Inps. Grillo raddoppia attacchi e volgarità dopo l'ultima uscita sulla Boldrini. Dopo la stretta del governo sugli incarichi multili. Qui il riferimento è ovviamente a Mastra Pasqua. Vediamo anche il manifesto. Madrilen. Sono arrivate da tutta la Spagna. È il titolo di apertura in evidenza. Sono arrivate da tutta la Spagna a bordo dei treni della Libertà per fermare la legge antriabortista del governo Racoi nella grande manifestazione che ha attraversato ieri Madrid la rabbia delle donne di fronte al balzo nel passato fatto sulla loro perre per accontentare la Chiesa e la destra reazionaria. Grillo. Poi siamo alla politica italiana. Scatena i suoi online ed è un ordaglia contro Boldrini. Cosa fareste in macchina con la Boldrini? È il post di Grillo sul blog. Poi cancellato ma che ha scatenato davvero tante polemiche. L'unità. Grillo. Grillini che odiano le donne. È il titolo a tutta pagina. Il comico scatena la rete contro Boldrini. Cosa fareste in auto con lei? Questa è la frase che ha fatto molto discutere. Grasso offese volgari e sessiste, dice il Presidente del Senato. Attacchi anche a Letta. Vuole zittire l'opposizione. Il Premier non si blocca la democrazia. E poi c'è la fotonotizia. Aborto a Madrid. Tutte contro Racoi. Dobbiamo vedere ancora in PDF Libero. Pensionato Mastra Pasqua dopo lo scoop di Libero. La laurea falsa costringe Mister Mille poltrona a mollare quella dell'Inps. Ma ora occhi al successore. Non possono essere Treu che non vigilò su Affittopoli o Bonanni a gestire le pensioni. Poi dalla Sardegna dove c'è in corso la campagna elettorale. Silvio riappare e spara sul colle. Napolitano. Errore. Rieleggerlo in Sardegna. Uscita pubblica con Toti. Che è di nuovo candidato governatore. Passiamo a vedere in cartaceo la Repubblica. Grillo. Assalto web alla Boldrini. Da leader del Movimento 5 Stelle e Provocazione Online. Che fareste in auto con lei? I post eliminati dopo le polemiche letta così cancellate la democrazia. Video scatena ondata di insulti sessisti. La Presidente è terrificante e eversione. E poi la resa di Mastra Pasqua. Mi dimetto. La decisione del Presidente Inps dopo il pressing del Premier spuntano nove carte e Treu favorito alla successione. La stampa Inps. Mastra Pasqua se ne va. Letta. Dopo l'affondo del Premier non sento fiducia. Dice Mastra Pasqua palazzo chi già apprezza scelta saggia. Adesso tornerà un CDA. Letta intanto ai 5 Stelle. Non bloccate tutto. La replica. Volete annullarci. Da Grillo insulti alla Boldrini sul web. Grasso fomenta per i voti. La nostra rivoluzione per voi europei. Nella lunga notte di Kiev. Siamo in Ucraina tra i poperi belli ucraini. Perché ci avete abbandonati? Questa è la domanda. Il messaggero Roma nel caos. Allerta Tevere. Il messaggero di Roma ovviamente si sofferma sul maltempo nella capitale. I soccorsi in ritardo diventano un caso. Polemica sul bollettino meteo della protezione civile. Trasporti in tilt. Centinaia di casi d'aziendi inagibili. Fiato sospeso per un'altra perturbazione. Anche qui Inps. Mastra Pasqua lascia in arrivo un commissario. Chiudiamo con le notizie sportive. Partendo dal posticipo di Serie A di ieri sera. Immobile va. Sedorf frena. L'anticipo finisce 1-1. Il tecnico rosso-nero sfugge. La terza vittoria di fila. Milan-Torino è appunto finita in pareggio. Ma c'è attenzione sul big match di oggi. Juve-Inter. Test verità. Mai state così distanti le due squadre. Bianco-neri avanti di 23 lunghezze. Record con i tre punti. Banche chiuse. Slitta il debutto in nero-azzurro di Hernanes. Tutti i segreti tattici della sfida. Conte-Mazzarri. E poi la corsa dietro la capolista. L'ordine di Garzia. Roma vincere tutte. Benitez speravo in un altro mercato. L'anticipo 2. La Fiorentina è spenta. Cagliari in festa. Celino esulta da Lez. Piniglia segna su rigore. L'anticipo poi 3. Sempre di Serie A. L'Udinese rinasce a Bologna. La curva contesta Morandi. E poi c'è l'amarezza di Rea. Per i no. In 10 hanno rifiutato la Lazio. Sempre per quanto le anticipazioni. Sulla giornata di Serie A. Rugby 6 nazioni. Poi vediamo in basso. Orgoglio Italia al Millennium. Il Galles vince. Ma che brividi. Questa era una selezione delle notizie sportive. Noi ci fermiamo qui con il Tg del mattino e la rassegna stampa. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Il telegiornale in diretta alle ore 14. Dice a voi tutti grazie per l'attenzione. Buona domenica.